Creare da zero un podcast o un audiolibro. Una scrittura ottimizzata per il formato audio. It's time to be creative. È tempo di essere creativi. Chi aspetti? Sei incontri online di scrittura per podcast e audiolibri con Radio Raccontiamoci Podcast edizioni digitali. Chi aspetti? 371-334-3761. Scrivi il tuo radiobook di successo!